Grazie mille professoressa, io a questo punto ringrazio ancora sia Marcella Panucci sia Paolo Ielo che la professoressa Severino, invito qui al tavolo i relatori della tavola rotonda e quindi facciamo questo cambio. Nel frattempo ne approfitto per cogliere due punti che mi hanno particolarmente colpito di queste prime relazioni, uno è quello strutturale alla 231 ed è un po' la distanza, forse più apparente che reale, che si è registrata tra il dottor Ielo e la professoressa Severino, sull'essenza stessa del decreto 231 e cioè 231 non può essere uno scudo, dice Paolo Ielo, 231 vero non è uno scudo, dice la professoressa Severino, ma neppure può essere un mero orpello inutile. La soluzione probabilmente il buonsenso suggerisce stia nel mezzo e l'auspicio e in qualche modo anche il tentativo che vogliamo fare qui oggi pomeriggio è di fare in modo che anche attraverso le indicazioni contenute nelle linee guida la 231 non debba, non possa essere uno scudo, ci soffermeremo durante questa tavola rotonda tra gli altri sui concetti di astratta idoneità ed efficacia concreta che sono consustanziali al sistema 231, al tempo stesso però pur non potendo essere uno scudo è assolutamente vero quanto diceva la professoressa Severino e cioè che è inaccettabile un approccio in base al quale per il solo fatto che il reato si sia verificato evidentemente il sistema non ha funzionato il modello o non era in sé o non era comunque efficacemente attuato. L'altro punto che mi permetto di sottolineare è in diretta connessione con questo aspetto è il richiamo fatto dalla professoressa Severino al concetto di rimproverabilità. La colpevolezza, la rimproverabilità sono elementi essenziali al diritto penale devono essere elementi essenziali anche nel sistema 231, nel sistema della responsabilità degli enti. Sono soltanto alcuni spunti che ho tratto da queste relazioni, credo che potremo svilupparli nel corso della tavola rotonda. Partirei senz'altro, anche perché non vedo ancora Massimo ma comunque rispettando l'ordine previsto partirei senz'altro da Alessandro De Nicola, l'avvocato De Nicola oltre a essere un brillantissimo avvocato e anche consulente d'impresa conosce molto bene le dinamiche del decreto 231. So che ha sviluppato alcune riflessioni in particolare sul tema dei gruppi d'impresa e del funzionamento dell'organismo di vigilanza nei gruppi d'impresa e questo è uno dei profili sui quali vorrei da lui vorrei la sua opinione. Mi piacerebbe strutturare questa tavola rotonda in due giri però con assoluta libertà da parte mia, questo ve lo anticipo, di consentire ai diversi partecipanti alla tavola rotonda di dire la propria su ciò che gli altri hanno asserito e quindi mi scuso in anticipo con voi se ogni tanto vi interromperò anche per rendere più dinamica diciamo la trattazione. In questi due giri però in linea di massima vorrei che da un lato emergesse come dire cosa voi pensate in particolare delle linee guida di Confindustria alla luce della vostra esperienza operativa maturata nei diversi ambiti. Abbiamo la fortuna qui di avere sostanzialmente i tre attori protagonisti della 231 cioè da un lato il mondo consulenziale dall'altro il mondo dell'impresa e infine anche il punto di vista ed è davvero per noi un privilegio del Ministero che però trova qui oggi un suo rappresentante che in realtà ha fatto per molto tempo il mestiere del magistrato e che quindi può darci anche dopo Paolo Ielo anche il punto di vista operativo di chi ha attuato la 231 sul campo. Vi raccomando ovviamente una certa brevità negli interventi così riusciamo ad essere anche interattivi e passo senz'altro la parola ad Alessandro De Nicola. Grazie. Grazie e grazie per l'invito naturalmente Confindustria. Io diciamo sono uno che ha il dono dell'inopportunità quando penso di andare a fare una cosa a braccio tutti gli altri fanno un lezio magistrale quando mi preparo qualcosa tutti gli altri vanno a braccio quindi ho cercato di fare una via di mezzo e ho preparato qualche slide che cercherò di scorrere velocemente sul tema del cambiamento relativamente all'organismo di vigilanza. Poi sulle linee di guida di Confindustria premetto dicendo questo una volta Indro Montanelli sono stato abbastanza fortunato da conoscerlo e collaborare con la più sfortunata delle sue imprese cioè la Voce ma diciamo questa è una mia caratteristica che ha avuto sempre per partiti sotto il 5% faccio tutte cose di questo genere mi sono rifatto esatto mi disse l'unico modo per recensire un libro facendogli un favore è assestargli almeno una buona critica quindi perché altrimenti se sono quelle recensioni che vedete soprattutto dei collaboratori degli stessi giornali che sembrano che abbiano scritto l'opera della vita oppure se sono le recensioni cattive evidentemente non vengono mai prese nel verso giusto invece se vuoi veramente lodare un'opera o un manufatto è bene che una critica gliela fai e quindi ho pensato anche a questo secondo aspetto dell'intervento però andando velocemente l'organismo di vigilanza secondo me questa è una delle aree più importanti anche nella recente giurisprudenza c'è attenzione all'organismo di vigilanza secondo me a volte i giudici così dimostrano di avere la benché minima idea di come funzioni un'impresa i giudici di Cassazione soprattutto nell'ultima sentenza in pregilo hanno confermato questa impressione che non hanno idea di come funzioni un'impresa pensando che il comunicato stampa di Savona e Romiti avrebbe dovuto passare per l'internal audit prima dell'incontro con gli analisti in modo che eventualmente l'internal audit si avrebbe potuto opporre come dire vuol dire vivere veramente nel paese avatar non lo so comunque l'organismo di vigilanza è un qualche cosa sulla quale ci si concentra molto anche la corte d'appello di Torino si è concentrata molto sul ruolo dell'organismo di vigilanza ne ha valutato il potenziale conflitto di interessi nel caso di specie è un qualche cosa che in qualche modo visto come un indizio importante di come il modello funzioni o meno perché naturalmente se non funziona l'organismo di vigilanza o se l'organismo di vigilanza è affetto da conflitti di interesse o da scarsa professionalità o da una non attenzione alle procedure o da scarsi flussi informativi è difficile che funzioni il modello su questo non c'è alcun dubbio se l'organismo di vigilanza non tiene necessariamente non terrà il modello e quindi l'organismo di vigilanza è molto importante e anche perché sugli organismi di vigilanza si concentra poi anche forse al di là di quello che era lo scopo della sua istituzione ma si concentra molto spesso la manutenzione del modello stesso hanno un ruolo come tutti sappiamo naturalmente di consiglio, di suggerimento, di stimolo e non un ruolo operativo diretto ma alla fine siccome sono coloro i quali istituzionalmente si interessano nel 231 nell'impresa diventano un po' quelli al centro dell'attività relativa al modello perciò l'organismo di vigilanza tra i vari temi mi sembra uno dei più rilevanti Quali sono le tre principali novità delle linee guida Confindustria? C'è un'attenzione molto maggiore sull'organismo di vigilanza nei gruppi di imprese lo vedremo i requisiti dell'organismo di vigilanza particolarmente con riguardo alla continuità di azione che cosa vuol dire questa benedetta continuità di azione anche qui certe volte c'è un certo irrealismo su cosa voglia dire e poi naturalmente per tener conto della novella legislativa la previsione del collegio sindacale con compiti di organismo di vigilanza allora le vecchie linee guida dedicavano un cenno mentre le nuove linee guida hanno un intero capitolo prima ed essenziale caratteristica sulla quale non si può che essere d'accordo è che così come è strutturato il nostro sistema giuridico non possiamo fare a meno di prevedere un organismo di vigilanza che sia autonomo per ciascuna società del gruppo un organismo di vigilanza di gruppo non è quello che si aspetta il legislatore il legislatore parla di enti nella loro individualità il concetto di gruppo comunque è un concetto che voi sapete nel diritto italiano ha vari binari c'è il gruppo secondo il diritto della concorrenza che è un gruppo diverso rispetto al diritto societario nel diritto societario c'è il gruppo essensi dell'articolo 2359 che ti dice semplicemente la funzione di controllo e invece c'è la direzione del coordinamento e mi fermo qui quindi il concetto di gruppo è su piani e su tavoli differenti a maggior ragione non si può pensare di dare una interpretazione troppo sostanzialista del gruppo stesso e pensare ad un organismo che pensi a tutto il gruppo anche perché naturalmente c'è gruppo e gruppo un conto è Eni con 700 società o quelle che avete un conto è un piccolo gruppo di famiglia con tre o quattro società siccome la legge non può addentrarsi naturalmente dire quelli con quattro società in un modo e quelli con 700 in un altro le linee guida di confindustria ribadiscono quello che è un concetto accettato e cioè che deve esserci autonomia di ciascuno inoltre ci sono anche ragioni di efficienza io tengo molto a questo tipo di analisi che infatti poi nella seconda parte svilupperò un pochino quando parliamo delle possibili riforme cioè le leggi funzionano bene se sono efficienti se rendono efficiente il sistema economico se aumentano il benessere collettivo o la ricchezza collettiva o quantomeno se evitano di distruggerla e l'interpretazione delle leggi soprattutto delle leggi che hanno a che fare con le imprese devono essere mirate a questo all'accrescimento del benessere collettivo e dell'efficienza non al contrario e quindi c'è una ragione di efficienza che è quella anche che un organismo di vigilanza che avesse la competenza su tutto il gruppo probabilmente sarebbe un organismo di vigilanza despecializzato un organismo di vigilanza che non riuscirebbe a stare dietro a tutto un organismo di vigilanza che rischierebbe di vedere il proprio compito o ostacolato o comunque di trovarsi in una situazione di non essere in grado di ademperlo completamente e quindi questo milita a favore della suddivisione possiamo andare avanti velocemente per però passare a un altro punto affrontato dall'idea di confindustria che è molto razionale cioè il fatto che gli organismi di vigilanza debbano essere autonomi non vuol dire che non debbano essere coordinati chiaramente anche questo è una funzione di efficienza ci sono alcune cose che possono essere fatte più utilmente bene insieme anche qui dimentichiamoci per un momento le problematiche giuridiche perché voi sapete che ad esempio per tutto quello che riguarda il settore bancario la funzione di indirizzo della capogruppo bancaria è molto più pervasiva rispetto invece alle società industriali di servizio ma a prescindere qui è confindustria e non abbi ma dimenticandoci per un momento questo noi abbiamo questa esigenza di coordinamento che un po' oscilla tra due poli cioè il coordinamento deve essere abbastanza efficiente da creare dei vantaggi dal punto di vista dello svolgimento del compito dell'organismo di vigilanza ma non deve essere così pervasivo da far sì che l'organismo di vigilanza della capogruppo prenda su di sé compiti che invece non sono suoi oppure che abbia un ruolo di comando rispetto agli altri organismi di vigilanza perché questo porterebbe il rischio famoso di risalita dell'attribuzione del reato alla società capogruppo quindi Confindustria secondo me in questo caso naviga abbastanza bene tra questo scilla e cariddi perché suggerisce un approccio che è un approccio cooperativo attuazioni di flussi informativi tra gli organismi di vigilanza anche qui facendo attenzione perché questa è una cosa che nei gruppi io noto si scorda spesso e cioè che non è che si possono passare tutte le informazioni comprese quelle price sensitive da una società a quell'altra solo perché si parla tra organismi di vigilanza prima di tutto non è il collegio sindacale che almeno una qualche legittimità in più ce l'ha ma in secondo luogo non c'è scritto da nessuna parte che questo tipo di cooperazione non c'è nessuna esimente nel momento in cui un organismo di vigilanza passasse informazioni price sensitive a un altro organismo di vigilanza e poi in qualche modo si verificano fenomeni di insider trading o di qualsiasi altra cosa o comunque abusi di mercato non sarebbe lesimente il fatto beh io glielo ho dato a loro perché sono un organismo di vigilanza non te l'ha detto nessuno o perlomeno non c'è da nessuna parte una legge che lo giustifichi quindi questo tipo di flussi informativi sono flussi informativi che riguardano soprattutto le procedure la cooperazione riguarda aspetti in cui c'è un'ovvia sinergia facciamo conto la formazione è un ovvio aspetto in cui la sinergia tra le varie società e l'impulso che dà l'organismo di vigilanza alla formazione è scontata ma anche alcuni tipi di indagini per esempio per certe aree di rischio se all'interno di un gruppo ci sono molte società che hanno un'area di rischio comune e l'organismo di vigilanza si fa promotore di un'attività di assessment del rischio beh chiaramente è molto più efficiente che venga fatto non uno per ciascun organismo di vigilanza ma venga fatto in modo coordinato ecco le linee guida di Confindustria mi sembra che sotto questo profilo raggiungano un punto di equilibrio molto più che accettabile che può essere seguito tranquillamente appunto criticità dello scambio di informazioni riservate ecco poi un ruolo di stimolo l'organismo di vigilanza della capogruppo però può averlo naturalmente perché soprattutto nei gruppi che sono gruppi nei quali la capogruppo ha una funzione di direzione e coordinamento l'organismo di vigilanza potrà poi riferire al consiglio di amministrazione le eventuali manchevolezze che registra nella cooperazione con gli altri organismi di vigilanza e poi sarà il consiglio di amministrazione della capogruppo eventualmente ad intervenire quindi una funzione di stimolo sia ad esempio per l'aggiornamento del modello quando c'è l'aggiornamento del modello in tutti i gruppi capita in tutti i gruppi nella gran parte dei gruppi in quelli che conosco io e mi sembra una cosa molto razionale che la capogruppo proceda all'aggiornamento del modello perché è cambiata la normativa se è cambiato il business è una cosa diversa perché il business potrebbe essere cambiato in una solietà e non in un'altra ma se è cambiata la normativa proceda all'aggiornamento da capogruppo e dopodiché ci sia una funzione di stimolo nei confronti degli altri anche qui ripeto Confindustria dà delle raccomandazioni che mi sembrano molto condivisibili il regolamento ISVAP ora IVAS ma comunque all'epoca ancora ISVAP 20 del 2008 dà una raccomandazione che vale per le assicurazioni ma che io tenderei ad assumere quasi come principio generale del funzionamento dell'organismo di vigilanza e che raccomando sempre in qualche modo di tenere presente all'interno dei gruppi lo leggiamo l'unica cosa che leggo l'organo di controllo la società di revisione la funzione di revisione interna dei risk management di compliance l'organismo di vigilanza 231 l'attuario incaricato e ogni altro organo o funzione a cui attribuito una specifica funzione di controllo collaborano tra di loro scambiandosi ogni informazione utile per l'espletamento dei rispettivi compiti ecco questo ovviamente non se ne poteva occupare Confindustria perché si tratta di una cosa che riguarda il mondo delle assicurazioni ma penso che sia un principio generale quello di collaborazione tra gli organi con determinate funzioni di controllo che dovrebbe essere applicato ovunque abbiamo già detto niente poteri di ingerenza cerco di andare veloce per fare un esempio di linee guida che invece prevedono un'ingerenza molto maggiore da parte dell'organismo di vigilanza del capogruppo le linee guida ASSO SIM invece prevedono che l'organismo di vigilanza dal capogruppo può effettuare direttamente e autonomamente verifiche e controlli su altre società del gruppo devo dire che le linee guida ASSO SIM sono un po' un'eccezione perché né ANIA né ABI in realtà hanno un approccio di questo genere continuità di azione allora noi sappiamo caratteristiche dei componenti autonomia e indipendenza professionalità continuità di azione allora cosa vuol dire autonomia e indipendenza le linee guida di confindustria lo spiegano bene sulla scorta della giurisprudenza della dottrina non devono essere affidati compiti operativi bisogna evitare ingerenze e comportamenti di tipo economico o personale che possano inficiare l'autonomia dell'organismo di vigilanza stesso e in più bisogna prevedere cause di ineleggibilità o decadenza qui autonomia e indipendenza vengono spesso utilizzati come sinonimi interscambiabili anche la giurisprudenza un pochino fa della confusione ad esempio la Corte d'Appello di Torino parla dell'indipendenza della mancanza di indipendenza e poi svolta sulla poca autonomia certo sono due concetti che di solito vanno a braccetto autonomia e indipendenza però sono levemente diversi perché un organismo di vigilanza in teoria potrebbe essere indipendente ma non abbastanza autonomo indipendente perché è composto da un consesso di persone completamente indipendenti e senza alcun tipo di condizionamento o con pochissimo condizionamento da parte del vertice ma poco autonomo perché ad esempio non ha accesso alla documentazione non ha accesso al personale non ha un budget e così via al contrario potrebbe esserci un organismo di vigilanza molto autonomo anche come poteri di iniziative come poteri di accesso e così via ma i cui componenti sono magari gerarchivamente dipendenti dal vertice qui finisco subito perché dopo aver parlato dell'autonomia e di indipendenza che viene per l'appunto affrontata molto bene faccio la mia piccola critica che la faccio sulla continuità di azione la professionalità va benissimo allora qui c'è una specie di piccolo equivoco che viene reiterato è che è quello della famosa struttura dedicata a tempo pieno all'attività di vigilanza sul modello questo è un equivoco che deve essere tolto perché noi ne troviamo traccia in una risalentissima sentenza del tribunale un'ordinanza scusate del tribunale di Roma del 20 aprile nel 2003 ormai mi ricordo persino la data cosa che delle sentenze non mi ricordo quasi mai e non certo perché il 20 aprile è il compleanno di Hitler è semplicemente perché mi ricordo ci ho pensato dopo e questo è l'unico appiglio che si ha per questa cosa della struttura dedicata a tempo pieno perché in realtà non c'è scritto da nessuna parte che deve esserci una struttura dedicata a tempo pieno perché un conto è se tempo pieno però questo è un equivoco che in qualche modo le linee guida continuano a perpetrare un conto se tempo pieno vuol dire che deve dedicarsi a quello e non deve avere altri compiti operativi all'interno della società e già questo è un po' come dire zoppicante perché se se tu quello che fai è solo attività 231 ad esempio vorrebbe dire che la compliance o l'internal audit che fanno altre cose simili alla 231 o il risk management simile alla 231 ma non 231 non potrebbero far parte di questa struttura dedicata se tempo pieno poi vuol dire che tutto il proprio tempo chiamiamolo lì aziendale deve essere dedicato alla 231 questo non solo non è richiesto dalla legge ma è completamente irrealistico non ci sono sono pochissime le società che hanno la disponibilità le risorse e i mezzi per avere delle persone dedicate a tempo pieno alla 231 va benissimo avere la famosa segreteria tecnica però le linee guida di confindustria ci dicono la segreteria tecnica può esserci nel caso in cui l'organismo di vigilanza sia composto anche da consulenti esterni o in prevenza consulenti esterni e non da invece soggetti interni ma anche qui c'è ambiguità la segreteria tecnica è utilissima va benissimo perché è quella che prepara diciamo il lavoro dell'organismo di vigilanza ma non è necessariamente una struttura dedicata a tempo pieno allora questo è un equivoco che prima viene tolto meglio è perché poi dopo la sentenza del tribunale di Roma non c'è traccia in altre sentenze di questa struttura dedicata a tempo pieno con questi gnomi che fanno 231 dalla mattina alla sera però una volta che diciamo l'errore c'è e viene in qualche modo scritto può essere ripetuto perciò tempo pieno deve essere inteso tutt'al più come assenza di compiti operativi su questo naturalmente siamo tutti d'accordo ma è una cosa diversa dall'avere delle persone o delle strutture dedicate solo a 231 mi fermo qui e lascio la parola grazie mille grazie mille